... del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle su censura e notificazioni di persona non grata. Quindi chi espone dei due da voli. Prego. Scusate, questa è una mozione particolare. È nata, il pretesto è stato aver letto la dichiarazione del sindaco di Guastalla che si chiama, che si chiama, adesso qui non ho il nome, comunque è intervenuta sui giornali dicendo che sarebbe stato riaperto, eccolo qua, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, lo trovo, lo trovo, va bene. Sì, che sarebbe stato riaperto a breve il punto nascite a Guastalla. E l'articolo diceva, mentre le speranze per Castelnuovo e altri siti come il nostro, Pieve Pelago, no, insomma i punti dove è stato chiuso, no Pieve Pelago, non mi ricordo gli altri nomi, comunque erano ridotte il lumicino. Quindi diceva, io sono molto contenta, mi riaprono nel punto nascite qui, per gli altri mi hanno detto che non c'è speranza. Questo mi ha fatto saltare sulla seggiola perché io ricordavo quello che ha detto Bonaccini, che ha promesso Bonaccini, sostenuto dal nostro sindaco Enrico Bini, prima delle ultime elezioni, poco più di due anni fa, dieci giorni prima delle elezioni, ha detto testualmente è stato un errore averli chiusi, adesso vi leggo tutto, vogliamo riaprirli, li riapriremo, addirittura mi sembra che la procedura fosse prevista, non so se l'aveva detto il sindaco, ma confermerà o meno, entro 60 giorni, sono passati più di due anni e le speranze di riaprire, come dice il sindaco di Guastalla, per Castelnuovo Monti sono all'omicino, va bene? Adesso vi leggo il perché, vi leggo il testo e poi capirete il motivo di voler dichiarare persona non grata, che significa persona non gradita sul territorio, verso, sì parlo, mi sentite col microfono adesso, di solito si parla direttamente al giudice, no? Che dicono parli verso il giudice, qui parliamo soprattutto ai cittadini presenti, che anzi è un piacere averli stasera, di solito non ne abbiamo. Allora, questa è una mozione firmata anche in questo caso con il gruppo 5 Stelle, e demozione di censura e notificazione di persona non grata. C'è l'oggetto, mozione su dichiarazione di persona non grata, che significa persona non gradita, nel territorio del Comune di Castelnuovo Monti, verso il Presidente Stefano Bonaccini, e persone non grade, persone non gradite, verso l'assessore delle politiche per la salute Raffaele Donnini, la Giunta regionale e tutti i consiglieri di maggioranza della Regione Emilia-Romagna. Considerate le seguenti dichiarazioni. Noi sindaci siamo stati rassicurati che il punto nascita di Guastalla riaprirà. Queste le parole di Camilla Verona, primo cittadino guastallese, nonché Presidente dell'Unione a Tg Reggio. Se le possibilità che riaprono quelle di Scandiano e Castelnuovo Monti sono ridotte a Lumicino, per Guastalla invece la riapertura è possibile. Questo l'ha dichiarato il 15 febbraio 22. Io il 16 ho presentato la mozione. Inizia invece con una menzogna il comunicato stampa dell'AUS di Reggio Emilia, ufficio stampa ASL, il comunicato del 13 settembre del 2017. Comunicato scritto non per informare, ma mia opinione, per ingannare le persone. Il comunicato inizia in questo modo. Come previsto dal piano di riorganizzazione temporanea e straordinaria della rete ospedaliere dei punti nascita per il periodo estivo, l'attività del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sant'Anna di Castelnuovo Monti è sospesa dal 16 settembre al 15 ottobre 2017 compreso. Il personale medico-infermieristico di supporto dei punti nasciti durante il periodo di chiusura manterrà alcune funzioni di monitoraggio e di accoglienza nel presidio temporaneamente chiuso. E andrà a rinforzare almeno in parte gli organici degli altri punti nasciti. Questo è l'ufficio stampa 13 settembre 2017. Poi c'è la dichiarazione di Bonaccini che viene a dirci è stato un errore chiuderli, ma intendo tener fede a quanto preannunciato. Riapriremo i punti nascita in Appennino. L'articolista dice è una missione destinata ad aprire un capitolo nuovo a più di tre anni dalla chiusura del punto nascita dell'ospedale Sant'Anna di Castelnuovo Monti. Quella resa dal presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nell'ambito di una relazione sull'evoluzione della pandemia Covid martedì in Assemblea Legislativa. Ho una sola parola. Anche quando sbaglio, ha detto Bonaccini, riapriremo Castelnuovo Monti, Ventivoglio, Porretta, Pavullo, Borgotaro. Feci un errore. Facciamo un errore. Rimedieremo. Quei punti nascita li riapriremo. Gazzetta di Reggio 10 marzo 2021. Quindi, appena più di due anni fa. Per aver mentito pubblicamente agli elettori e prima ancora di ammettere l'errore per aver chiuso il reparto maternità dell'ospedale Sant'Anna di Castelnuovo Monti senza voler applicare la deroga prevista dalla legge per gli ospedali in aree orografiche difficili, chiediamo al Consiglio Comunale di esprimersi votando a favore di una forte censura per il comportamento inqualificabile e per le menzogne ripetute e pubbliche del Presidente Stefano Bonaccini. Decisioni politiche errate che hanno causato e causano un danno grave alla sicurezza e al diritto primario alla salute di donne partorienti e neonati qui nei sette comuni dell'Appennino Reggiano. Ricordiamo tutti che un uomo vale quanto la sua parola questo è Miguel de Cervantes che lo scrive perché nella sua parola risiedono i suoi valori, i suoi sogni, il suo cuore e se alla parola non seguono i fatti uomo non è. Conseguenza della censura sarà l'obbligo per tutti i nostri amministratori Sindaco, Assessori e Consiglieri del Comune di Castelnuovo Monti di non invitare non stringere la mano non accogliere o incontrare in qualsiasi forma e modo il Presidente protempore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini sino a quando le sue parole, le sue promesse pubbliche agli elettori non verranno da lui rispettate e il reparto maternità io lo chiamo reparto maternità poi la neolingua di sinistra dice che si chiama punto nascite ma punto nascite io ritengo che sia negli allevamenti quindi il reparto maternità del nostro ospedale Sant'Anna sarà riaperto i firmatari sono io Paolo Pigoni e il capogruppo Luca Maioli del 5 Stelle questa mi sembra chiara nella espressione come mozione io so già come voterete però vorrei mi è stato preannunciato già mi è stato preannunciato insomma lasciami finire quando dico una cosa ci saranno anche i motivi mi è stato preannunciato ieri in conferenza capigruppo dal tuo capogruppo quindi mi ha già detto che voterete contro va bene lasciamelo dire poi dopo se avete cambiato idea io sono felicissimo se tutti o qualcuno volesse votarla per dare un segnale forte perché è chiaro che questa è una provocazione politica al di là di quelle che possono essere le conseguenze nessuno impedisce Bonaccini di venire qua però gli facciamo sapere che non lo gradiamo e non abbiamo gradito le sue menzogne io al di là delle differenze politiche qui vorrei vedere un'unità perché stiamo combattendo per la nostra gente le nostre donne e la nostra montagna quindi se ve lo dice quello che è è un capogruppo di opposizione forse vi dice anche qualcosa di corretto potreste anche superare quella barriera di divisione artificiale che a volte c'è fra di noi e dire almeno hai ragione su quello che hai detto magari non possiamo perché il partito non ce lo permette ho dieci minuti per finire non ce lo permette però almeno esprimetevi io spero che più di uno di voi voglia parlare su questo punto grazie parleremo sicuramente c'è di bello che sei l'ultimo arrivato l'ultimo salito sul carro della questione del punto nascito del reparto maternità perché prima di te c'era anche un comitato che si è chiuso da poco però che è partito prima di te te puntualmente te ti infili e prendi quello che è in mano una battaglia caro sindaco sei molto scorretto io sono una cicogna dall'inizio perché io ho firmato insieme agli altri 11.000 quindi sarà un cicogno chiamami come vuoi però ero sensibile di lasciarmi parlare da allora quindi non raccontare delle storie non te lo permetto 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 sii onesto in quello che dici e non mentire perché tu sei abituato spesso a mentire esatto lo scrivi anche quello porta rispetto di un consigliere capogruppo grazie perché ti arrabbi e stiamo parlando quindi non ti arrabbiare ti ho solo detto una constatazione sono lì sono dall'inizio in questa battaglia dall'inizio in questa battaglia perché ci tengo anche noi ci teniamo va bene io ho anche un figlio che è nato qua proprio nell'ospedale Sant'Anna tanti anni fa anche io quindi siamo uguali ecco su questo per quanto riguarda Camilla Verona lei riapre il punto nascita perché li avevano chiuso durante la pandemia non perché li avevano chiuso quando hanno chiuso i nostri che noi abbiamo sono due cose diverse lei forse si è allargato un po' troppo anche oltre le sue competenze perché lei doveva preoccuparsi del suo punto nascita e non so se è stato aperto se l'hanno già aperto come messa però lei ha dichiarato quella cosa lì che riguarda un punto nascita chiuso non perché eravamo sotto i parti sotto il decreto ma perché li avevano chiuso durante l'emergenza Covid quindi l'hanno riaperto per quello Scandiano gli avevano dato quella proroga che tutti sappiamo un po' strana che però era già sotto i parametri quindi sono due cose diverse noi quello che ha promesso Bonaccini lo sappiamo bene l'abbiamo chiesto più volte abbiamo provato anche la mozione del consigliere Giorgio Caselli dove chiedeva di lavorare assieme su questa partita qua abbiamo cominciato a lavorare c'è chiaro che Bonaccini con noi ha un debito e ce l'ha con tutta la montagna con quelli con cui ha detto che nessuno le aveva chiesto di dire ho sbagliato e lo riaprirò poteva dire provo a riaprirlo senza dire che ha sbagliato che quando vogliamo gliel'abbiamo detto tutti gli abitanti della montagna gli amministratori i comitati i firmatari i cittadini che sbagliava a chiuderlo perché c'erano le condizioni per tenerlo aperto non l'ha fatto di sua iniziativa dopo le elezioni perché l'ha fatto a luglio dell'anno in cui è stato eletto a gennaio che ha ripreso senza che nessuno lo chiudesse questa partita qua e con lui abbiamo ancora questo conto aperto però da lì a fare a fare quello che dici te noi le provocazioni non siamo abituati a provocare le persone siamo abituati a chiedere il conto alle persone quindi la proposta che posso fare a questo consiglio è di rimandare una lettera di nuovo a lui dove li ricordiamo rispetto alle questioni che ricordava Giorgio Caselli di lavorare assieme per provare a riaprirlo anche se le problematiche sono complicate però non aspetta a noi o dirlo anche perché c'è un decreto a Roma dove adesso tu hai le entrature ce le hai c'è il ministro della sanità vallo a chiedere a lui di provare a dire a Bonacini di riaprirlo perché adesso possiamo anche cercare alleanze anche dal governo visto che al governo ci sono quelli che prima dicevano che non andava chiuso adesso ci sono le condizioni per modificare il decreto chiediamo queste cose quindi io non mi sottraggo finché sarò sindaco continueremo a farle queste battaglie e se volete propongo questa non la voto ma te l'ha detto giustamente Carlo anche se noi non provochiamo a nessuno ma io non voto una mozione del genere lui è il presidente della regione quindi in questo modo io le allastringerò ancora la mano ricordandogli le promesse che ha fatto che dovremmo ricordarli alle tutte quindi io la mia dichiarazione l'ho fatta però secondo me è fuori luogo questa tua richiesta adesso chiedo anche agli altri chi vuole intervenire perché comunque su questa mozione visto che si è prevista una votazione di dire a ognuno quello che pensa quindi mi fermo qua però insomma ti ho spiegato la differenza delle dichiarazioni inopportune tra virgolette perché lei doveva sul punto nascita e non preoccuparsi di quello di Scandiano di Castelnuovo perché dovremmo anche capire lì ma stiamo lavorandoci perché anche con Carlo che è delegato alla sanità stiamo chiedendo conto all'azienda di come complessivamente dell'ospedale di Castelnuovo non solo sul punto nascita quindi siamo sul pezzo compreso assieme agli altri sintesi io mi fermo e chiedo chi vuole intervenire no dico solo due parole visto che avevo già anticipato da voli che io naturalmente come capogruppo di maggioranza ho espresso l'opinione che credo sia di noi consiglieri di maggioranza con questo non è che io impongo niente a nessuno se qualcuno vuole dire la sua la dirà per l'amor del cielo io penso che noi votiamo contro perché la mozione non ci sta né nel merito e neanche nella forma nel merito perché ci sono diversi errori interpretativi potrei perdere del tempo a spiegare tecnicamente il perché non lo faccio perché l'ho già fatto più volte sulla stampa sui giornali mi sono rivolto a Bonacini anche in modo non del tutto amichevole pubblicamente come forse ricorderete tutti quindi questo si sfonda una porta aperta ma da qui a chiedere che l'istituzione condanni l'istituzione mi sembra che sia una roba che non ci sta non può starci in nessuna maniera quando il presidente della regione decideremo che non può più farlo lui ma lo farà un altro perché non lo merita e avremo fatto la nostra scelta non che noi impediamo ad un presidente regolarmente eletto ai sindaci di stringergli la mano queste robe che ho letto prima che mi sembrano francamente un po' sopra le righe scusa da voli non ti offendere ma mi sembrano davvero un poco sopra le righe qui non si tratta di come dire di provocazione qui si tratta di dire una cosa che per me a mio modo di vedere nel mio piccolino non è fattibile non è proprio neanche presentabile se poi vogliamo dire solo due robette Guastalla aveva più di 500 parti non l'ha riaperta ancora perché non trovano i ginecologi che ci vanno perché non è stato aperto il punto nasce non è stato riaperto al momento non è stato neanche provato a riaprirlo in nessun posto perché non abbiamo il personale in nessuna maniera ma questo sospenderei questa cosa perché comunque non è forse neanche la sede davvero potremmo parlare per molto tempo non solo di punto nascita ma di tante altre cose che non vanno in sanità che sono un disastro e che presto vedremo i nodi che vengono al pettine in modo gravissimo ma non solo per il punto nascita per un crollo che va alla nostra sanità pubblica che è già in essere e di cui ancora tanta gente non si rende conto nonostante che proviamo da più parti a lanciare l'allarme vabbè detto tutto questo non voglio tenerla lunga perché se qualcun altro vuol parlare è per l'amor del cielo dica la sua per mio conto il nostro gruppo vota sicuramente contro questa mozione Giorgio Caselli Sì scusate ma sono senza voce prima di tutto volevo far rilevare come dicevi anche tu Boni che Bonaccini e anche altre figure sono stati regolarmente eletti dai cittadini quindi sono figure istituzionali ora come dicevi anche tu noi che siamo una figura istituzionale andiamo a squalificare e a dire a Bonaccini che non può venire su secondo me questo è un po' una cosa che non può andare addirittura non possiamo stringergli una mano cioè possiamo non essere d'accordo perché non ha mantenuto quello che aveva promesso questo senz'altro d'altronde quando è stata votata la mozione che tutti quanti dobbiamo cercare di lavorare quello sì che mi sembra un qualcosa utile perché non è che uno da solo debba andare l'altro ma questo era già stato detto quando abbiamo approvato la mozione tra l'altro vorrei ricordare che alcuni giorni fa il sindaco di Collagna Ferretti si è espresso in un altro modo perché ha addirittura gratificato il Presidente Bonaccini e Corsini l'assessore per il contributo della Regione alle attività assistiche che inserite nel progetto Montagna in futuro avranno maggiore opportunità di finanziamenti quindi non è che abbiamo solo ed esclusivamente il punto nascita in Montagna c'è il problema del lavoro la sanità nel suo complesso come dicevi giustamente tu perché nell'ospedale non c'è solo il punto nascita ci sono io sono stato ricoverato anche due mesi fa ne ho viste allora dobbiamo cercare di migliorare tutte non solo va bene il punto nascita anche se le promesse che aveva fatto Bonaccini si sono dimostrate va bene proprio fasulle se per caso viene a meno il lavoro in Montagna e allora calano poi anche le nascite allora possiamo salutare anche il punto nascita questo sì che è importante dobbiamo cercare di avere tutte le risorse che sono possibili e disponibili per la montagna e non solo nel punto nascita io devo allinearmi anche perché siamo dello stesso partito a quanto affermato da Ferretti quindi non posso votare questa mozione sarei per come diceva anche il sindaco ritirarla modificarla studiarla e ripresentarla e votarla tutti quanti assieme grazie io volevo solo aggiungere intanto volevo dire che giovedì ho operato mio figlio qui a Castelnuovo a un appendicite e devo dire che tutto è nato liscio ho trovato un reparto pulitissimo tutti disponibilissimi tutto è andato alla grande e quindi uno capisce ancora di più il valore del nostro ospedale quando Davoli è venuto da me chiedendomi di votare di firmare assieme a lui questa mozione io gli ho detto di sì per un semplice motivo è perché credo che Bonaccini spesso e volentieri abbia fatto delle promesse che poi non ha mantenuto ma spesso e volentieri ha usato queste promesse per uno scopo suo elettorale perché ha sempre dato queste notizie appena prima di qualche elezione e quindi questa cosa mi ha dato molto fastidio perché secondo me noi non abbiamo bisogno in montagna di cantastorie perché ne abbiamo anche troppi noi abbiamo bisogno di gente politica che quando viene qua deve avere le idee chiare dire quello che realmente potrà e riuscirà a fare e farlo poi ci saranno tempi e modi sicuramente difficili lunghi e quant'altro però lo stesso Bonaccini a me e a Nadia Vassallo se ti ricordi quando eravamo giù al centro Coni per la festa dello sport cosa ci disse? esatto ok cosa disse? che la regione era pronta in tutto aspettavano solo un via da Roma questo risale a due anni fa ecco quindi voglio dire io quando parlo con una persona di un certo livello spero sempre che le sue parole abbiano un impatto decisivo con quello che dice quindi a me quello che ha dato fastidio è che ha usato le sue parole per avere più attenzione più voti per quello che erano i suoi interessi non i nostri detto questo io ho la mozione se si arriverà a votare voterò favorevole Nadia sì volevo fare una correzione a quello che ha detto Luca che è corretto quello che ha detto Luca ma non era corretto quello che ha detto Bonaccini nel senso che lui sostiene che non è lui il responsabile della chiusura bensì il ministero il ministero e invece la regione che poi alla fine sarebbe lungo spiegare tutto come ha detto prima Carlo perché sappiamo come è stata presentata la richiesta di deroga tutto il percorso che c'è stato quindi questo rimpararsi tra Bonaccini e il governo lascia il tempo che trova e chiudiamola qua perché sennò ci vuole due consigli comunali per rifare tutta la storia è proprio per la storia che mi ha portato qui anche se adesso il comitato è stato chiuso perché come ultimo atto d'accusa di tutto questo percorso che è successo proprio con la chiusura del punto nascita noi siamo arrivate a non avere più nulla da dire e a chiudere il comitato ed è proprio in nome del nostro percorso che la nostra contrarietà nei confronti dell'operato in questo settore del presidente Bonaccini è arcinota quindi a questo a questo quesito coerentemente però non possiamo votare a favore perché il suo operato è per noi contrario in un settore non su tutto il settore quindi noi ci asteniamo dal votare questa mozione se arriverà ad essere votata e voglio sottolineare però che la figura del presidente Bonaccini per quanto riguarda la responsabilità nella chiusura del punto nascita e anche in un certo qual modo su alcuni aspetti negativi della sanità in regione e soprattutto nel nostro distretto da parte nostra della nostra lista rimane al 100% contrari al suo operato voglio essere chiara grazie scusa Erika perché lo voglio dire è stato bellissimo vedervi discutere per le cicogne grazie posso? posso? no no visto che è stato monopolizzato dagli uomini stasera la discussione Nadia no volevo solo dire che capisco le motivazioni della sede Luca che di che di Davoli e Pigoni però anche io non sono d'accordo nei modi ma è abbastanza ovvio non è che vi dico niente di nuovo e capisco anch'io la delusione o il fatto di nutrire essere i dubbi e confermo anch'io e sono d'accordo con Davoli sul fatto che quando si dà una parola secondo me è da mantenere su questo sono totalmente d'accordo però come abbiamo detto e sono d'accordo con Caro del fatto che la questione della sanità purtroppo è una questione veramente molto ampia e la regione in realtà ci aiuta su molte cose come diceva Caselli e credo che mantenere determinati modi di dialogare sia fondamentale soprattutto per una zona come la nostra cioè noi dobbiamo imparare a farci sentire e non credo che questo togliere il saluto cioè capisco che è una cosa simbolica però insomma io non sono d'accordo sono d'accordo sulla vostra sulle motivazioni non sui metodi ci tenevo a dirvelo grazie però Erika scusa se te lo dico ma toni e modi dovrebbe essere una cosa reciproca allora il tuo modo di confrontarti nei nostri confronti è raccontandoci balle perché alla fine è raccontato balle ad oggi quindi anche io voglio il rispetto nei confronti suoi quando mi dici una cosa deve essere quella che tu dici deve essere la realtà quindi dimmi al momento non abbiamo ancora risolto nulla portate pazienza punto non mi far pensare che siamo lì pronti a riaprire un punto nascite questo è questione di rispetto reciproco credo posso visto che posso rispondere a lui no non lo so io credo che un'altra un'altra cosa positiva sia quello di non diventare cioè io non se una persona si rivolge in malo modo non voglio diventare come quella persona se quella persona non mi piace sinceramente poi è difficile perché cioè arrabbiarsi è una cosa che viene spontanea ma anche io mi arrabbio però ripeto io non vorrei essere avere quei modi nei confronti delle altre persone neanche nei vostri quando non siamo d'accordo nei confronti di nessun altro quindi per questo ripeto non sono d'accordo questo non è che lo solleva dal fatto di non aver detto quello che ha detto e anche di avere dei modi discutibili che poi scusate scusa chiedo al consigliere Maioli quindi la la conclusione è che noi non invitiamo non stringiamo la mano non accogliamo non incontriamo in alcun forma modo il presidente delle media Romagna il consiglio comunale dice questo ti pare una cosa fattibile una cosa ragionevole non è non è fattibile probabilmente io il fatto che Bonacini abbia sbagliato che aveva detto delle cose false io glielo ho detto anche sul pubblicamente ma questo non vuol dire che noi dobbiamo fare scegliere questa strada perché questa strada è una strada non istituzionale è una strada che va contro la buona non la buona educazione la norma la norma più ovvia dei rapporti istituzionali questo è uno eletto da tutti hai capito? sì sono d'accordo è questo che secondo me non ci sta poi ti ripeto se vogliamo andare a vedere le motivazioni di queste cose che sono scritte in questa mozione possiamo stare qui una serata intera a parlarne ti spiegherei non mi permetto di spiegare niente a nessuno illustrerei molto bene cosa ci sta dietro queste frasi queste parole capito? ma la conclusione che quindi noi dovremmo fare tutte ste robe qua che sono elencate per me è veramente inaccettabile dal mio punto di vista io per quello che riguarda il punto nascite è un discorso che con lui non toccherei più mai più cioè io spetterai al varco quello che sarà la fine di questa storia perché con non lo so io capisco che con un Presidente di Regione bisogna avere un dialogo costante perché ovviamente non c'è solo la sanità di mezzo però comunque che capisca che ormai la gente qua è arrivata nel senso che ormai questo è il modo di farglielo capire questo non è di sicuro il sistema scusate eventualmente i cittadini montanari glielo faranno capire alle elezioni cioè se dovessimo togliere saluta a tutte le persone che non mantengono la parola o raccontano parlano per dare l'aria ai denti penso che dovremmo diventare quasi tutti i remiti penso mi sembra un'esagerazione io concordo con il mio gruppo va bene io vorrei fare una riflessione una riflessione su scusa Enrico due secondi una riflessione su due cose al di là sul punto nascita perché è più forte di me leggevo oggi la locandina passando davanti all'edicola 250 di tutto montagna 256 nati nell'anno scorso in montagna sono tantissimi 256 sul tuo montagna ho letto 256 forse allora hanno messo dentro anche il viano o non so cosa perché c'è proprio nella locandina davanti all'edicola sono 186 e poi c'era scritto sono 186 quelli nati qua no no nati nel distretto nostro all'attivo c'è 149 un saldo attivo se ti ricordi prima c'era più di un 50% che non partoriva Castanotte no no ma io volevo soltanto dire che sono 200 io leggendo quella locandina ho fatto questa riflessione 256 bimbi nati l'anno scorso adesso poi mi dici che sono meno quindi devo andare a rivedere la locandina dall'edicola però quello che volevo arrivare a dire era questo con la chiusura del punto nascita si è un po' interrotto il rapporto tra le mamme che sono in gravidanza e l'ospedale l'ostetricia cerchiamo di come avevamo detto tanto tempo fa lo riprendo adesso questo ragionamento cerchiamo di vedere se questa interruzione è reale o se c'è se è soltanto una sensazione che hanno alcune mamme perché è una questione che in questi ultimi tempi alcune ragazze mi hanno riportato alla luce quindi volevo dirla qui se per cortesia possiamo fare un passaggio all'interno visto che stiamo parlando di punto nascita e quello che ci interessa è che funzioni quello che c'è rimasto che non ci hanno ancora tolto perché ci sono alcune due o tre cosette problemi che le mamme che si avvicinano alla gravidanza e quindi si avvicinano al percorso affrontano che non dovrebbero affrontare secondo me poi il parto è un'altra cosa ma la gravidanza dovrebbe essere tranquilla dall'inizio soprattutto se è una gravidanza fisiologica senza nessuna problematica di avere tutto il percorso lineare perché mi sono giunte due o tre segnalazioni e volevo condividerle con voi e quindi questo è l'impegno che dovremmo avere come diceva anche Carlo prima cercare di quello che c'è di mantenerlo il più in forma possibile al di là del rendere non grato grato una persona sul territorio grazie no volevo dire rispetto all'ultima cosa che diceva Naziano su questo aspetto che tu insomma ci hai in qualche modo evidenziato cercheremo di capire meglio perché cioè può essere anche un'esperienza personale quindi cercare anche di comprendere cose che non hanno funzionato però in realtà cioè frequentando anche l'ostetricia io vedo che insomma le donne sono prese in carico ci sono i corsi pre-parto ci sono i corsi post-parto c'è sì latte e coccole cioè mi sembra che ci sia insomma si faccia tutto il possibile per cercare di accompagnare non ho specificato bene il tempo lungo il tempo lungo di prese in carico della ragazza quando chiama il consultorio per avere il primo appuntamento ci sono stati dei momenti che hanno dato gli appuntamenti dopo anche due settimane e lì è il momento invece più delicato che la mamma come chiama secondo me quella neomamma quando chiama dovrebbe essere presa subito una visita invece sono passati anche dei 15 giorni cercheremo di verificare quali sono state le motivazioni ti ringrazio bene io a sto punto metterei in approvazione questa mozione se non c'è l'intenzione magari di ritirarla di fare una proposta diversa e coerente quindi apprezzo la tua coerenza è chiaro che è fuori luogo rispetto a quelle cose che ci hanno già detto ma non vogliamo tornarsi sotto quindi io metto in approvazione la mozione devo leggerla rispetto oddio eccomi punto 4 l'ordine del giorno mozione del gruppo consigliare Castanua Libera del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle su censura e notificazioni di persona non grata quindi chi è d'accordo alzi la mano 3 contrarie no contrarie sì ok quanti sono chi conta ci sono i i riscrutatori ci sono quindi 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 ok astenuti 1 bene quindi respinta la mozione quindi sì che li ho dichiarati eh sì erano Caselli Rivi e Vassallo no no ma te ne perdono di cose quindi anche te ne perdoni a me quindi sì eh sì no no tranquillo non è un problema ma le avevo dati quindi adesso c'è l'altro andiamo avanti con l'ordine del giorno scioglimento anticipato anticipato dalla vigente convenzione di segretario con i comuni di